Signor Sindaco, abbiamo saputo un po' di questo tampone alla Breton, quando si saprà poi l'esito? Allora, sì, sostanzialmente da ieri mattina che siamo in piena emergenza, diciamo, perché siamo stati convocati ieri pomeriggio al caffoncello di Treviso, assieme al direttore generale dell'USL del dottor Benazzi, al prefetto, ai medici, i virologi che stanno seguendo tutta la questione e hanno informato i sindaci sul da farsi di fronte a questo coronavirus, insomma. Ieri sera poi c'è stata l'ordinanza della Regione Veneto, che è stata fatta, sì, del Ministero della Salute, che hanno dato delle linee di guida da seguire e ahimè questa mattina mi è giunta notizia che un dipendente della Breton, probabilmente, usiamo il condizionale, potrebbe avere questo tipo di virus. Ecco, mi sono sentito con i responsabili della Breton, loro in via precauzionale hanno mandato a casa tutti i dipendenti, sia oggi che domani, di modo che riusciranno un po' a igienizzare tutti gli ambienti che ha frequentato questo signore e faranno il tampone previsto dalla normativa dell'USL, insomma, per capire se è positivo o negativo e dopo, insomma, valuteremo le conseguenze. Ecco, in questo momento lei sa se il tampone è già stato fatto? Allora, so che sono in attesa di un esito, perché il ragazzo era a casa la settimana scorsa, cioè, no, mi sembra che se non vado errato venerdì ha lasciato il lavoro, è andato a casa e ha avvertito questi sintomi influenzali e è stato in ospedale e l'ospedale lo ha indirizzato verso gli opportuni controlli. Sì, la Breton ha fatto questa scelta saggia, diciamo, in via precauzionale per tutelare i propri dipendenti, ma anche per tutelare un po' il paese stesso che è qui e che ruota intorno alla Breton. Lei sa che tipo di mansione aveva questo ragazzo? No, purtroppo non lo so, nel senso che so per certo che penso sia un operaio che lavori all'interno della Breton, però non c'è stato, non ho chiesto informazioni ulteriori perché la centralità era un'altra, cioè era sapere se era positivo o negativo, per cui... Lei sa quando si saprà l'esito? Io mi auguro tra oggi e domani, perché è una notizia che sto aspettando anch'io con una certa impazienza, però i tempi tecnici non gli so dire, insomma. Senta un'altra cosa, se emergesse che di fatto questo dipendente della Breton ha contratto il coronavirus, lei da sindaco, la mossa successiva qual è? Allora, la mossa successiva sarà quella sicuramente di interfacciarmi con il dottor Francesco Benazzi, che è il direttore generale dell'USL. Ieri siamo stati insieme, ne abbiamo parlato ripetutamente. Il riferimento primo è l'USL per fronteggiare questo tipo di situazione. E assieme all'USL e anche al prefetto, insomma, cercheremo di attuare le opportune accorgimenti per far fronte a questo tipo di problematica. se ci fosse, ecco, speriamo di no, ma... Quindi lei mi conferma che in questo momento il sospetto, il contagiato e il ventilato, perché ancora non si sa, si trova dove? Da quello che mi risulta dovrebbe essere in ospedale. So che lui di sua iniziativa, insomma, è andato a farsi vedere, perché i media lo hanno stimolato a fare degli ulteriori accertamenti, per cui è in ospedale ed è sotto controllo, ecco. Quindi ospedale di Treviso? No, credo di no, penso che sia nel Padovano, però uso sempre il condizionale perché questa è un'informazione che non gli lasso dire con esattezza. Non sa quindi dov'è in questo momento? Non glielo so dire, no.